Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo fugacemente toccato la questione degli immobili, dei palazzi eccetera eccetera, che andremo ad affrontare un po' più avanti con una procettualità che comunque ci deve essere perché effettivamente Udine ha delle cose da far valere, far vedere, mostrare e far funzionare che sono assolutamente invidiabili. C'è una questioncella che abbiamo affrontato anche qui in televisione, che riguarda le banche friulane, in particolare una banca che è la Cassa di Risparmio, che se non è in luglio è alla fine di dicembre, tirerà veramente giù le insegne, cioè non sarà più Cassa di Risparmio, sarà banca intesa, il padrone sarà a Milano e questo... Torino? Intesa San Paolo, bravo, Intesa San Paolo è Torino. E quindi per decidere, per poter investire eccetera eccetera, bisognerà attendere segnali da lontano. Di questa cosa, che sostanzialmente chiude tutta la saga delle banche friulane, a parte la Cividale, non si parla, non si dice niente, eppure anche soltanto a livello di presenza culturale, ambientale, il palazzo di Via Mercato Vecchio, la Cappella eccetera eccetera, è una cosa straordinaria, che comunque passa di mano. Fontanini? Beh no, non è così. C'è una cosa... No, il palazzo non passa di mano, passa di mano nel senso che non c'è, il direttore è uno che viene nominato da loro. Il palazzo è della fondazione, quindi non passa di mano e peraltro, chiedo scusa se rubo la parola a Fontanini, peraltro non ci sono reazioni perché i poteri decisionali sono da parecchi anni lontani da Udine, cioè formalmente erano a Udine, ma di fatto la direttore... Cioè il fatto di non vedere più le insegne non la turba più tanto? No, perché così da parecchi anni ormai, cioè non decidono niente a Udine. Ho capito, ma questo fa parte del discorsetto che stava portando avanti. Purtroppo la storia è lunga e ha iniziato male già da un paio d'anni, ha iniziato già col Monte di Pietà, che non è stato chiuso totalmente, è stato trasferito a Mestre. Già quello era un segnale che doveva far allertare in pratica la classe politica, io dico della città, e contestare una scelta del genere. Poi nella dinamica delle banche, che è una dinamica abbastanza difficile, soprattutto negli ultimi anni, adesso intesa, è entrata con forza e è sempre stata dentro la cassa di risparmio del Friuli, perché questo era l'ultimo nome che ha preso la banca, però abbiamo dall'altra parte la fondazione, la fondazione Friuli che ha un bel patrimonio, ha più di 300 milioni di euro, ed è abbastanza curioso che la fondazione non riesca un po' a tamponare questa aggressività da parte della banca madre nei confronti di una storia anche di un nome, di un marchio che secondo me non dovrebbe guastare, anche per accogliere e ricercare sempre più risparmiatori. Ho capito, Bertossi non... No, ma non c'è nessuna aggressività. Quando hanno fuso... Eh, si cambia l'insegna, no? Quando hanno fuso le banche, hanno fatto la famosa operazione di tutte le casse di risparmio d'Italia, cedendo le fondazioni e accorpando, si sapeva che tutte le banche, Trieste è finita in Unicredit, Udine è finita in Intesa San Paolo, ma hanno sempre comandato gli altri, perché la quota della fondazione Friuli in Intesa San Paolo è minimale, quindi non c'è mai stato un vero potere. Poi possiamo discutere sul fatto che scompare l'insegna a casa di risparmio del Friuli Venezia Giulia, eccetera, ma la levata di Scudi doveva essere fatta vent'anni fa, quando non si sono fuse tra di loro tutte le casse di risparmio, si è fatto lo spezzatino, uno da una parte e uno dall'altra, poi si è fatto il bis con le banche popolari, una di qua e una di là, poi è successa anche la questione della banca del Friuli che è finita a credito romagnolo e alla fine con il famoso Fasini-Bessoi, ma ognun parconso, abbiamo fatto lo spezzatino totale. Lei dice ormai ci siamo suoi fatti, ormai la realtà è questa e quindi non sai. No, ma è inutile adesso fare delle discussioni su una situazione che è nota da parecchi anni, dispiace, però devo dire una cosa, sempre parlando di progettualità, siccome la fondazione Friuli ha bene in mano il controllo del palazzo, ad esempio, che è il vero patrimonio che rimane a disposizione della nostra comunità friulana e udinese, io credo che si debba ragionare in termini di progettualità con la fondazione di che cosa fare di quel palazzo, perché è la famosa questione che uffici, uffici, uffici dappertutto, forse per rendere attrattiva anche dal punto di vista turistico la nostra città e culturale, si potrebbe anche lavorare molto su questi palazzi, quello della Cassa di Risparmio, quello della Banca d'Italia. Sì, sì, adesso arriviamo ai palazzi, Salmè e poi Martínez. Con la stessa logica è stata svenduta l'Amga all'Era, la stessa logica, è un gigante, noi ne beneficeremo. Io vorrei chiedere a quale udinese, quale friulano potrebbe dire oggi ci abbiamo guadagnato, che cosa ha investito l'Era qua a Udine? Cioè dov'è il beneficio? E questa logica qua del diventare più grandi per poter reggere la competizione, ma perdendo il controllo delle leve del comando, non ha portato a nulla. Io capisco la questione macroeconomica, cioè delle dimensioni, però se poi questa scelta non porta nessun tipo di beneficio al popolo udinese, alla comunità friulana, io mi chiedo se dobbiamo continuare su questa strada e il prossimo passo è la questione dell'università del Friuli, dell'università di Udine. Noi dobbiamo conservare l'autonomia della nostra università e poi guardare al futuro e metterci alla pari con Trieste. Sì, comunque, per Alberto si dice, è inutile piangere adesso, i buoi sono già scappati da tempo. Certo, però, voglio dire, questo ci deve dare l'esempio per il futuro. A noi manca una area di ricerca scientifica che possa fare da motore alle nostre imprese. Manca. C'è la Trieste, c'è la Venezia e ce l'hanno le altre realtà. Friuli Innovazione c'ha 35 persone che ci lavorano. Stiamo parlando di una realtà Lilliput, purtroppo. Noi abbiamo aziende che sono il vanto d'Italia, abbiamo la Rizzari Decker, abbiamo la Danieli. Secondo lei a queste aziende ed altre non servirebbe una vera cittadella dell'innovazione tecnologica che possa creare brevetti, innovazione tecnologica. Io credo che Danieli fa da sé, così di persone. Fa da sé, ma sicuramente ne avrebbero sicuramente bisogno anche loro, senza altro. Sì, a me preoccupa un po' questo fatto del dire ormai i buoi sono scappati. Nel senso che però di volta in volta, di fronte a tutti questi episodi, è l'ultimo, è quello credo delle banche popolari, che era rimasta l'ultima possibilità di aggregazione di un potere economico. Le banche di credito cooperativo è l'ultima, qualche mese fa praticamente. che potevano avere la possibilità di creare una potenza economica ancora regionale. Però di fronte a tutte queste cose, questo che va via un insegna è un segnale. Secondo me il fatto dell'accettare che tutto questo avvenga significa arrendersi. Allora di fronte ha una serie di situazioni che vedono sempre più indebolirsi il ruolo della città di Udine, anche rispetto a Trieste. Una volta esisteva un bilanciamento politico perlomeno tra Udine e Trieste. È saltato. Non esiste più uno. La presidenza friulana è la sede. O comunque all'interno dei grandi partiti questa cosa avveniva. Questo bilanciamento secondo me è completamente saltato negli ultimi periodi. Certo che è saltato. Un po' noioso questa roba. Noiosa? Sì, è noiosissimo. No, io credo che... Vabbè, se reputi noioso una questione del genere, vabbè, scusa. Sì, sì. Penso che sia noioso. Io quello che voglio dire è che a Udine sta succedendo quello che succede a Padova, per quanto riguarda l'intesa San Paolo. E quindi fra poco noi avremo lo stesso tema da affrontare. Cioè, San Paolo fa il suo lavoro di grande o grandissima azienda e forse gli importa poco dei beni immobili storici che ha a disposizione dei territori. E quindi l'ex monte di Pietà, invece che è un bene storico del Friuli e di Udine, noi dovremmo cercare di trattarlo insieme a questa potente banca perché rimanga pannaggio della storia di Udine, del centro storico di Udine, di Via Mercato Vecchio in particolare, e non venga svenduto per altri fini come farebbe la banca. Dice che lei la fondazione è immobile. Arrivo. La fondazione ha una sede altrove. La fondazione, secondo me, è anche interessata a porre la sua sede da dove? Al Palazzo Storico del Monte di Pietà. Io ritengo che, dato l'interesse del centro storico di Udine, che ne dicono gli altri, è possibile pensare anche a trovare dei privati che possono essere interessati a utilizzare questi spazi, alternativamente l'uno o l'altro in un accordo, sia con l'intesa San Paolo, sia con la fondazione, perché diventino i riferimenti del futuro centro commerciale di Udine. Per cui questo è il lavoro che noi ci troveremo davanti di qui a qualche settimana. Quindi implica una trattativa. Qualche settimana, perché quando verrà avanti il discorso di intesa San Paolo, che dirà io sto bene, non so cosa farmene, perché non lo ritiene su. Ma non è di intesa San Paolo, è della fondazione. Ho capito, ho capito. Sì, vabbè, ha un valore questo cespite, nessuno sa cosa farsene e il rischio è che rimanga lì vuoto a disposizione di non si sa chi. O noi mettiamo in piedi una trattativa. No, no, sono informatissimo anche il valore del cespite, ma non ha importanza, ognuno lo può leggere su tutti i bilanci. Qui è cercare di trovare i privati che facciano degli investimenti precisi sul centro storico per salvaguardare questo bene e dare un ruolo quindi diverso a quel palazzo. Non capisco. Va bene, insomma, non ci siamo annoiati anche a sentire questa riflessione. Torniamo ai nostri palazzi. Partiamo da Palazzo Belgrado. Cosa succede di Palazzo Belgrado? C'è Bertossi che ha un'idea, mi pare che Andrea ne ha un'altra. Sentiamo Fontanini. Il Palazzo Belgrado fino al mese di luglio, perché questo è il tempo che si è dato alla regione, resterà senza definizione, resterà in pratica lì nel limbo, perché sarà il commissario dopo di me a gestirlo. Dopo la regione deciderà. Però sia il Consiglio Comunale di Udine sia il Consiglio Provinciale si sono espressi affinché questo palazzo passi in proprietà al Comune. Perché è un palazzo storico realizzato da una famiglia friulana, dove la regione non ha mai messo un becco di quattrino, sempre stato gestito con fondi della provincia. È un luogo che ha un forte significato non solo per la città, perché è uno dei palazzi più belli della città di Udine, ma anche per la storia del friuli. E quindi penso all'unanimità, l'hanno deciso tra l'altro, sia di destra che di sinistra, tutti i consiglieri, debba restare patrimonio di Udine. Quindi deve essere proprietà della provincia. Anche perché oltre al Palazzo Nobile, dove ci sono gli affreschi del Quaglio, ci sono molti uffici. E mi risulta che il Comune di Udine sia in affitto in tante parti della città. Bene, se acquista, anzi viene passato Palazzo Belgrado al Comune, questo significa risparmiare un bel po' di soldi, perché ci sono uffici pronti dove i dipendenti comunali possono da subito andare a svolgere la loro mansione. Martínez, c'è questo rischio che passi tutto alla regione? I beni della provincia sono diversi nella città di Udine, quindi è chiaro che va fatta una trattativa con la regione per capire quale di questi beni è bene che rimanga tutta completamente gestita dal Comune o dall'Unione dei Comuni e cosa la regione può prendersi da gestire in via autonoma. L'importante è che il Palazzo Belgrado, che ha un forte valore simbolico, rimango di esclusivo utilizzo del Comune o, come penso io, anche dell'Unione dei Comuni, cioè un punto di riferimento ad aria vasta come è sempre stato. Questo penso che sia molto facile da ottenere, però io credo che va messa in piedi subito una trattativa con la regione, appena si insedia ovviamente, per vedere tutti questi beni come utilizzarli al meglio. Quello ha un valore simbolico e deve rimanere a pannaggio di Udine o dell'Unione dei Comuni. Ci dica la sua idea Bertossi, mi pare che stia parlando di un Museo del Quaglio. La mia idea è che bisogna prendere in considerazione tutta quella vasta area che va dal Museo Diocesano con gli affreschi e le gallerie del Tiepolo fino all'ex distretto militare. Il Palazzo Belgrado, l'ala nobile del Palazzo Belgrado, sede della provincia, ha dei magnifici affreschi del Quaglio che possono competere tranquillamente con quelli del Tiepolo del Museo Diocesano e quindi credo che per rendere attrattiva dal punto di vista artistico, culturale, museale la nostra città, si potrebbe spendere in maniera forte una vasta area museale che prende il Museo Diocesano e la provincia con in mezzo l'ex Casa del Prefetto adibita a Museo del Settecento con laboratori interattivi, magari una rappresentazione di tutti gli altri affreschi importantissimi che ci sono sparsi per la città, sia del Tiepolo che del Quaglio che hanno lasciato a Udine delle opere strepitose. Nella parte uffici della provincia, che è molto ampia, io non sono contrario a allocare lì degli uffici comunali, però credo che una carta da giocare importante per la città possa essere quella di chiedere alla regione il trasferimento degli uffici della Promoturismo e FWG che sono a Villa Chiozza in mezzo a un'area dove non c'è neanche il segnale. C'è il Palazzo del Prefetto per questa cosa. Un attimo, però ognuno dice la sua perché sennò facciamo confusione. Dato un suggerimento, consiglio non richiesto. C'è l'area di Villa Chiozza che è in un posto abbastanza infelice e poi ci sono altri 20 dipendenti, mi pare, di Promoturismo a Tavagnaco. Riportare lì in quel sito il potere vero, decisionale, programmatico del turismo regionale consentirebbe alla nostra città di avere, intanto di arricchire finalmente di qualche presenza economica perché i dipendenti spendono, insomma c'è un minimo di attrattività economica, ma soprattutto di creare una vasta area di attrattività turistica. Poi c'è il discorso del vecchio distretto militare dove io sposo in pieno la proposta di fare il centro per il design industriale che è una vecchia idea che avevo ancora molti anni fa per farla nell'ex frigorifero in via Sabadini, il comune all'epoca non fu d'accordo e si perse un'occasione storica per la città. Non parlo di un museo del design industriale, parlo di un centro che sia interattivo col sistema imprenditoriale della regione. Noi abbiamo una grande tradizione di designer, da Gino Valle che era proprio un Udinese puro a Bertoia, eccetera, e credo che si potrebbe rivitalizzare anche il tessuto economico regionale attraverso un'idea di questo tipo. Valcic, ascoltando Bertossi, non è come l'impressione che stia crescendo un centralismo udinese, lo dico per via della questione del promoturismo, andare a prendersi, sarà in mezzo ai campi, Villa Chiozza, chi lavora in Villa Chiozza o a Tavagnacco, significa, cioè è esattamente il contrario del dialogo di cui parlava un altro competitor al palazzo. È sempre un problema di funzionalità anche e che comunque Udine per riprendere quel famoso ruolo dell'inizio non debba sempre apparire come quella che mangia tutto, anche da parte della provincia, sia un problema che però si risolve con le proposte che fa Udine. Allora noi per esempio sul palazzo della provincia, palazzo Belgrado, ribadendo il valore delle opere che ci sono all'interno, cioè io non vorrei mai che un bellissimo quadro di un artista friulano finisse nell'ufficio di un burocrate a Trieste, cioè perché una cosa è il palazzo, l'altra è il valore delle cose contenute all'interno di quel palazzo lì e torno a ripeterlo, è immenso il valore dei quadri, delle sculture, perché una volta che cosa succedeva? Chi manteneva questi pittori? Chi manteneva questi scultori? La provincia fin dagli anni 30 praticamente acquistava ad ognuno di loro un'opera, questa opera veniva portata all'interno della provincia. È un patrimonio raro, unico e rappresenta soprattutto, secondo me, un grosso legame fra la città e il relato del territorio. Mi pareva si parlasse di affreschi però. No, 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 io sto parlando di quadri, di opere d'arte all'interno del palazzo provinciale. E allora da decenni anche le passate amministrazioni hanno parlato di una casa friuli, cioè di un luogo fisico in cui l'ospite ma anche lo stesso cittadino, cioè la città potesse avere in un'unica situazione la rappresentazione di che cos'è il friuli, della sua storia, delle sue cose. Secondo me il palazzo si presta, oltre ad una mostra permanente di queste opere. Aspetta che non ho finito. No, no, veloci, scusa, ad ospitare tutte le organizzazioni e le associazioni che in qualche modo hanno a che fare con la questione. Casa friuli. Casa friuli. Se non altro gli uffici delle minoranze linguistiche regionali che invece oggi sono sistemate in affitto. Ho capito. Salmè cosa dice? Sì, volevo dire che intanto per il palazzo Belgrado non c'è proprio niente da trattare. Fa parte di una cosa che spetta al popolo udinese, punto, insomma. Noi burocrati di Trieste se ne faranno una ragione e non è che possono mettere becco su quello che spetta a noi. L'altra questione è che se noi non leghiamo tutto quello di cui abbiamo parlato, tutto questo grande patrimonio culturale a una politica di marketing che porti turisti a Udine e noi non creiamo posti di lavoro che servono a Udine. Se noi vogliamo fare questo noi non possiamo non legare la nostra immagine a quella di Venezia, perché Venezia è conosciuta in tutto il mondo. Se noi vogliamo far venire turisti dal Canada, dalle Stati Uniti, dal Giappone, dobbiamo legare una politica di marketing turistico Udine e Venezia che sono legate. Udine vicino a Venezia. Stiamo scherzando, 400 anni di legame con Venezia, basta girare per le nostre piazze per vedere il legame che c'è con Venezia. Stiamo parlando di Palazzo Belgrado, parliamo del Tiepolo e non vediamo il legame storico-culturale. Poi l'ultima cosa che vorrei dire... Scusa, ma perdi però l'unicità della città. La storia è una cosa in evoluzione che ha dei suoi passaggi, non bisogna perdere nessuno di questi passaggi. Dopodiché io voglio soltanto dire questo, i partiti poi amano molto parlare dei palazzi. Io vorrei, con noi come progetto civico poi, vorrei passare a parlare dei palazzi alle persone, alle persone udinesi che vivono nelle periferie, agli invadi civili, ai pensionati, perché credo che la politica non dia una grande dimostrazione quando perde l'80% del suo tempo a parlare di palazzi. Ho capito, neanche l'ex Cavarzerani non le interessa come palazzo. Quello non è un palazzo, insomma è un immobile. Quello è un'area di 156 mila metri quadrati, un'area veramente strategica che cambierebbe il volto di Udine Est e dell'intera città. Poi parliamo anche di questo. Abbiamo ancora, prima di andare in pubblicità, l'ex serie della Banca d'Italia. Un'altra idea che sta marciando tra i candidati, sostanzialmente, Bertossi, se vuole introdurla. Io sono dell'idea che deve andare al Comune, il palazzo della Banca d'Italia, e che non debba essere una sede di uffici, ma deve diventare la galleria d'arte antica della città. Anche quello è un magnifico palazzo, è una villa palladiana in centro, in centro storico. In Castello, a vedere i quadri della galleria d'arte antica non ci va quasi nessuno. Riportarla nel palazzo della Banca d'Italia può sicuramente rendere attrattiva Udine, con tre poli, il polo dell'arte moderna contemporanea in casa Cavazzini, la galleria d'arte antica nel palazzo della Banca d'Italia, il museo del Tiepolo e del Quaglio, come si diceva prima. In Castello si fanno le grandi mostre, le grandi mostre che richiamano decine, se non centinaia di migliaia di turisti e di visitatori che nel tempo si autofinanziano, per cui non tolgono nulla, ma anzi portano molto al territorio. Un'idea molto chiara, c'è un progetto dell'università che invece vuol fare gli uffici del rettorato, eccetera. Io sono assolutamente contrario. Sentiamo Martínez questa nuova geografia dei palazzi, chiamiamola così, dei palazzi che hanno comunque una valenza, l'ha riconosciuto, anche lei se non è turistica piuttosto importante. Intanto starei attento a dire che c'è bisogno di ampliare le superfici museali a Udine, perché la spesa che il Comune di Udine ha su questo settore è del 3% del totale della spesa corrente, molto alta. Noi dobbiamo far funzionare molto bene quello che c'è, io parto da questa considerazione. La Banca d'Italia per cedere questo bene ha bisogno di qualcuno che l'acquisti, so che ci sono dei privati interessati. A me piacerebbe che quella diventasse un polo scientifico di grande qualità, nella quale si potesse studiare l'economia ad alto livello, questo è una cosa che anche l'Università aveva pensato a suo tempo, secondo me va recuperato perché l'Università di Udine ha anche bisogno di attrarre gente che viene dall'estero e quindi specializzandosi molto in alto in un'area che è quella economica, che invece è utilissima al nostro territorio e che può trovare agganci naturali con il privato e l'industria privata, noi potremmo fare di quello un polo attrettivo dal punto di vista dell'alta formazione e quei mettendo a disposizione anche gli spazi storici e il giardino che è certamente una porta d'ingresso al centro storico di grande rilievo. Benissimo, Fontanini velocemente. Sono d'accordo con Martinez perché deve l'Università realizzare quello che ha già annunciato, oramai sono passati tre anni, quando sembrava che le cose andassero velocemente, anche perché la Banca d'Italia avrebbe concesso non la vendita ma un utilizzo a tempo molto lungo di questo palazzo. Mancavano i finanziamenti e qui purtroppo la Regione si è bloccata perché c'era una sinergia tra la Fondazione Friuli che era interessata e la stessa Regione. Un po' dopo avrebbe messo qualcosa l'Università, quindi si deve recuperare questo palazzo che è bellissimo ed è un peccato che resti lì inutilizzato oramai da un bel po' di anni. Sì, io brevissimo per dire che è vero che la spesa è una spesa importante quella per gli spazi museali, è altrettanto vero che però se vuoi essere attrattivo devi investire e che quindi la spesa verrà proporzionata a quanto Udine diventa attrattiva rispetto al discorso turistico, quindi è chiaro. Voleva dire qualcosa Martínez? Sì, voglio dire, questo si può tenere anche facendo funzionare meglio quello che c'è senza investire ancora perché altrimenti i costi salgono e non c'è un rendimento vero di tutto il buono che abbiamo in città di Udine. Con i fondi che ci dà la Regione forse ha ragione Martínez, noi nel nostro programma abbiamo detto che chiederemo alla Regione che la cultura diventi competenza esclusiva a livello comunale, che ci restituiscono la competenza sulla cultura, esclusiva. Io sono assolutamente sbalordito nel sentire queste cose perché la cultura non è una spesa, non è un costo, è un investimento. Se noi investiamo in una rete museale, in nuove iniziative, rendiamo più attrattiva la città, portiamo soldi, portiamo ricchezza, le cose dell'università possono essere tranquillamente allocate in altri edifici e non serve utilizzare l'unica villa palladiana che abbiamo in Regione nel centro storico di Udine per fare delle aule universitarie o degli uffici. Mi dispiace, io non sarò mai d'accordo su questo. Non ho detto questo però, non ho detto questo e quello che pensi tu. Benissimo, pubblicità e poi faremo più. Se non ci fai un museo, dimmi cosa ci fai.